Spendido successo esterno della Juventus contro un Napoli sempre più invischiato nelle sabbie mobili della retrocessione. Apre la marcatura Sivori con un tiro a volo. Tanti è solo, ma il portiere bianconero si salva con un grande intervento. Punizione per la Juve e Capitan Boniferti scocca un tiro imparabile 2 a 0. Ancora Sivori alla ribalta, scarsa tutti e deposita in rete. Nella ripresa lo scatenato Omar concede il bis e batte per la quarta volta Bugatti. Gli attacchi dei napoletani sono serili e non approdano a nulla di concreto. Qui Babassori esce e blocca in due tempi un tiro di Di Giacomo. Charles ha un'ottima palla, ma per due volte Missone salva la rete partenopea.